La puntata di lunedì 6 febbraio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata Al centro studio siederanno nuovamente Riccardo e Gloria. Il cavaliere nella scorsa registrazione aveva ammesso di provare qualcosa di simile all'amore per la dama Le sue dichiarazioni, però, non hanno convinto molto la dama, sta di fatto che i due hanno finito per litigare e per interrompere la conoscenza Quest'oggi, poi, la dama porterà una segnalazione eclatante. In studio, inoltre, ci saranno dei nuovi arrivi Segnalazione su Riccardo a Uomini e Donne nella puntata del 6 febbraio di Uomini e Donne vedremo che al centro studio ci saranno di nuovo Riccardo e Gloria I due non si sono proprio scritti in questi giorni, tuttavia, ad un certo punto la donna dirà di aver ricevuto una segnalazione Meno specifico, aprenderà di guardare Grazie a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti